Questo è l'asilo Cappellini, sorge sulla Excomasinella, oggi al nome di Via Italia. È stato edificato abbastanza di recente rispetto agli altri edifici che vediamo, che è del 1914. Prende il nome dalla tessitura Cappellini, al cui nome è legata anche la torre, l'attuale torre del Corderia Cappellini. Si tratta di una tessitura che ai tempi era molto grande ed era anche la fornitrice della Marina Reale. La cosa importante è che questo asilo è stato creato per i figli dei dipendenti, quindi in qualche maniera prefigura gli asili aziendali di oggi. Se analizziamo la facciata, vediamo due piani, una linea marca piano che li distingue, pilastri, modanature, che sarebbe quella grossa fascia tra un piano e l'altro sotto la linea marca piano, quindi una facciata, tra l'altro fatta tra una colonna e l'altra c'è un'architrave, o perlomeno qualcosa che ricorda un'architrave, quindi una facciata tipicamente neoclassica. Grazie. 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 Grazie.